ma ciao ma è una vita che non ci vediamo niente allora ascoltate io sto andando avanti con i miei esperimenti allora adesso voglio provare a farla alla pala cosa ho fatto? l'ho rovesciata l'ho stesa a manate l'ho girata adesso vado a metterla sulla pala ok? ed è rimasta qua boh non so 20 minuti credo a grandi linee allora mettiamo sempre con molta molta delicatess ok andiamo a ok si ma io sto facendo e non vi faccio vedere ok faccio la stessa cosa che facciamo in teglia niente di più niente di meno faccio solo così ok adesso metto l'olio però non posso farvi vedere che metto l'olio perché è quello che mi tiene su vedete il il cellulare basta bolla via bolla scoppiamo bolla scoppiamo ok siate delicati siate delicati come toccare una donna mi raccomando le donne vanno toccate con delicatezza le vostre quelle degli altri poi mi assumo responsabilità per questa cosa se poi trovate qualche marito incazzoso che è il piccolo aspetta che ammigna ammigna allora guardate cosa uso io guardate cosa uso io guarda faccio una cosa diversa io uso l'olio questo buono questo è all'arancia farò arancia origano e a crudo metterò su stracchino e vucla ok ciao belli vado a cuocere ciao ciao